Ciao a tutti ragazzi sono Gongs e Vito e benvenuti in questo nuovissimo video, in questo nuovissimo gioco voi vi starete chiedendo che cos'è questa schermata, si metterà a disegnare? No, assolutamente no. Questo gioco si chiama Evolve, praticamente bisogna far evolvere delle strutture che noi creiamo, ad esempio qua possiamo mettere le giunture come se fossero i gomiti o le ginocchia, ad esempio io voglio creare, anzi vi faccio vedere direttamente le creature che ci sono di base in modo da farvi capire un po' com'è il gioco. Ecco, metto questo che non so minimamente che cosa sia, spero non sia una lumaca anche se lo sembra, noi clicchiamo Evolve, è un momento, no, non può salire le scale una lumaca così. Allora, fatemi cambiare un attimo la cosa, la facciamo correre, facciamo correre questa sottospecie di lumaca, praticamente spinge, teoricamente dovrebbe spingere e ogni volta che non ce la fa, cambia il livello, quella che ha fatto il miglior punteggio o comunque i migliori progressi, passa avanti. Adesso siamo alla terza generazione, come vedete la lumaca che abbiamo sta saltellando, piano piano, poi si stanca e si ferma. Più si va avanti con le generazioni, più diventano brave, più vanno avanti e meno si stancano. Quindi queste sono tutte le muscolature, in azzurro quelle che si espandono, in rosso quelle che contraggono. Ad esempio, vedete adesso sta spingendo, sta andando sempre più avanti. Non so sinceramente se sia una lumaca, perché mi sembra molto strana come forma di una lumaca, però comunque l'importante è che si muova. Adesso siamo alla generazione 10, quella che vedete in alto a destra, la migliore della generazione 9 e possiamo decidere se mostrarne solo una o se mostrare tutte le sottospecie di lumache che si stanno muovendo, che stanno imparando piano piano e vedete prima era tutto un miscuglio di forme che si muovevano a caso. Adesso piano piano tutte stanno imparando a muoversi correttamente e vedete un po' si stanno muovendo tutte nello stesso modo. Adesso mostriamone solo una, vediamo i progressi che fa, ci fermiamo alla generazione 20, vediamo se va più veloce o se continua a muoversi in questo preciso modo. Sembra piuttosto che vada in avanti e non si fermi più ormai, non si stanca, non si ferma proprio. Benissimo, benissimo, siamo alla generazione 19 e direi che può bastare così, vediamo un po' un'altra forma. Vediamo un kangaroo, un kanguro, sì, ci sono anche i kanguri ragazzi, possiamo vedere un po' come si muovono. Qua possiamo scegliere la popolazione, quindi quante di queste forme imparano dagli altri, quanti secondi ci metteranno ad imparare o comunque ad allenarsi, perché comunque è un allenamento per poter migliorare e andare avanti. Ad esempio io metto 10 secondi e metto 50 come popolazione. Gli facciamo sempre correre, sì, e clicchiamo evolve. Guardate, è un ammasso di kanguri allucinante, molti si sono coricati da una parte, alcuni si stanno buttando dall'altra parte ancora. Vediamo adesso che finiscono in 10 secondi, come siano andati avanti. Uno piano piano sta saltellando in avanti, sta già imparando, perché comunque su 50 almeno uno che impara velocemente c'è. Come vedete adesso anche gli altri stanno già muovendosi molto più velocemente. E non è solo uno, ma sono 5, 6 forse che si stanno muovendo correttamente. Chi con molta facilità, chi con un po' più di difficoltà. Ok, generazione 3, questo sta già facendo faville, sta correndo in una maniera assurda. Ed è anche il migliore, lo vedete, è lo stesso della generazione 3. Quindi adesso che siamo alla generazione 5, ci mostra quello della generazione 4. Ogni volta possiamo capire se magari c'è qualcosa che non va, tipo possiamo correggere un muscolo, possiamo aggiungere delle ossa, delle giunture per farlo muovere più velocemente. Come vedete nella generazione 5 si è bloccato e ha iniziato ad andare al contrario. Non so perché il canguro stia saltando con le orecchie, però comunque non penso sia il modo corretto di andare. Stavano imparando. Poi hanno iniziato ad avere troppa spinta e si sono a capota. Questo cos'è? Una specie di verme, credo. Una W con tre muscoli collegati alle quattro ossa che ha. Ok, evolve. Mettiamo meno popolazione, così glielo rendiamo un po' più difficile come cosa. E rimettiamo anche 5 secondi per, diciamo, imparare. Poi ci sono altre impostazioni qua. Possiamo aumentare la griglia, troppo grande. Diminuire la griglia, diciamo che è abbastanza piccola per poter fare delle cose veramente grandi. Quindi per il momento otteniamo quella di base e giochiamo con quella di base. Magari in un prossimo video, se il gioco vi piace, posso portare delle forme un po' più complesse, un po' più piccole, un po' più grandi. Ditemi voi, 50% di mutation rate, non so sinceramente come funziona. Però, boh, vediamo. Tieni la migliore creatura per la prossima generazione. Ovviamente facendo così, gli altri imparano dalla migliore. Hanno visto che ce n'è una in più, una che sa già fare le cose. Gli altri componenti di quella generazione nuova imparano da quella che aveva già migliorato un sacco. Possiamo simulare le generazioni come dei... non so, delle vasche. Mettiamo, non lo so, 10 vasche con 10 componenti l'una. I migliori poi andranno tutti in una vasca unica. Oppure si separeranno nelle vasche dove meno sono andati avanti. Per il momento io questa la tolgo perché non mi piace. Voglio lavorare solo su una vasca. Chiudiamo. Partiamo. Teoricamente dovrebbe strisciare. E sta facendo di tutto, tranne che strisciare. Quello stava strisciando al contrario. Questo ce la sta facendo, guardate, uno ce l'aveva quasi fatta. Ma non ce ne eravamo accorti. Al momento sta avendo molta difficoltà. Lo potete vedere qua in alto a destra. Si sta ripiegando su se stesso. Non sa che cosa fare. Piano piano prova a camminare. Ma rimane sempre sul posto. Ha iniziato a saltellare. Si è slogato un'articolazione. Ok? Piano piano. Eccolo, eccolo. Sta saltellando, sta saltando. Non è che questo va bene per saltare e non per correre. Proviamo a mettere qua. Running. Al posto di running mettiamo jumping. Quindi dovrebbe solamente saltare. Ci sono altre opzioni. Può saltare un ostacolo. Può arrampicarsi. Queste due le proveremo in futuro. In questo video voglio provare io a creare una mia forma. In modo da riuscire a fare qualcosa di interessante. Magari mi creo io una specie di cane. In modo da farlo correre. E provare a fare una roba del genere. Intanto evolve. Clicchiamo. Vediamo come fa a saltare. Vediamo se salta. Non salta. Uno prova a saltare. Ma non è che faccia molta cosa. Sta saltando al contrario oltretutto. Allora, vediamo un po'. Quanto pare non va molto avanti, eh. Non va per niente avanti. Cosa posso fare per aiutarlo? Boh, ci prova a saltare. Ce la sta facendo. Ok. Sta iniziando a saltare dritto. Ok, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Alla generazione 5 ci siamo. No. No. Alla generazione 4 c'eravamo. Alla generazione 5 e 6. No. A quanto pare no. È il mio momento. Delettiamo queste giunture. Se tu deletti una giuntura ti toglie tutte le ossa collegate a quella. Per ovviamente eliminare le cose più facilmente. Allora dobbiamo creare una specie di cane. Quindi facciamogli il busto. E qua ci va un osso. Ok. E qua ci siamo. Per il momento ci siamo. Le zampette dei cane sono tipo così. E proviamo così. In modo da poterlo far saltare. Anzi corre. Mettiamo che corre. Servono altre ossa. Collego un osso qui e un osso qui. Un osso qui e un osso qui. E ora cosa manca? La muscolatura. Manca solo la muscolatura. Quindi attacchiamone una qua e una al busto. Nel busto qua e poi qua. Credo che possa servire qualcos'altro. Ma proviamo. Sono in 10. Teoricamente qualcosa dovrebbe riuscire a farla. Sta saltellando al contrario? No. Forse devo fare questo più piccolo. Togliamo questa giuntura. Mettiamola qua. E poi questo qua. Quindi devo collegare questo così. E togliere questo teoricamente. Mettiamo la muscolatura. 1 e 2. Vediamo che cosa succede. Aspettiamo giusto 5-6 generazioni per vedere se riesce a muoversi. Piano piano riesce a capire che cosa deve fare. Guardate sta provando ma rimane fermo sulle zambe posteriori. Vediamo se piano piano andando avanti con le generazioni riesce ad andare avanti. Si regge in piedi. E' già una cosa. Si regge in piedi. Cerca di sedersi. Ma si sta reggendo in piedi al momento. Vediamo un po'. Ce la sta facendo. Sta provando ad andare avanti. Ragazzi se riesce ad andare avanti siamo a cavallo. No. E' un cane non è un cavallo. Posso provare a fare anche un cavallo. Ora che ci penso. Bisogna ragionare come strutturare un cavallo. Interessante. Ci posso pensare. Ci posso pensare. Manca la testa in effetti al cane. Però guardate. Guardate. Generazione 9 ce la sta facendo. Piano piano tutti quelli della generazione 11 stanno andando avanti. Generazione 10. Generazione 11. Vediamo. Eccolo. Guardate. Quello è il migliore della generazione 11. Proviamo a mostrarne solo uno per capire come si sta muovendo in grande. Senza dover guardare per forza lo schermino piccolo in alto a destra. Guardate. Ce la sta facendo. Voglio provare ora ad aumentare un po' la capacità di imparare. Quindi mettiamo popolazione di 20. E 7 secondi. Ok. 7 secondi evolve. Vediamo cosa succede. Secondo me qualcuno riesce a fare qualcosa. Mostriamone solo uno. Sta pregando. Non l'ho capito. Questo è il migliore. Migliore della generazione 1. Davvero? È messo male se questo è il migliore della generazione 1. Proviamo ad andare avanti così. Piano piano ce la farà. Dai. Ce l'avevi fatta prima verso la generazione 5. Se ce la stavi facendo. La generazione 10 era già un mostro. Ce la stava proprio facendo ad andare avanti proprio bene. Generazione 4 invece si accapota. Vorrei gratini magari. Ma che cosa? Che cosa sta succedendo? Mio dio ragazzi. Allora. Vediamo. 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 Ce la può fare. Ce la può fare. Ce la può fare. È fermo in piedi. Generazione 6. No. No. Si accapota di nuovo. No. E si accapotato. Ecco qua. Torniamo qua. Vediamone solo uno per vedere se ha imparato qualcosa. Salta a testa in giù questo cane. Benissimo. Corre a testa in giù. Magari sta sognando. Non lo so. Provo a mettere la testa in effetti. Ho comunque un contrapeso dietro. Perché comunque il baricentro di un cane non è proprio davanti nel busto ma è dietro. Quindi rimodifichiamolo. Allora. Provo a fare una cosa. Riniziamo da zero. Togliamo queste giunture. Vediamo che cosa ne salta fuori. Sembra che non... Sembra che non sia andato come previsto. Però molti si reggono in piedi. Guardate. Almeno si regge in piedi. Il problema è che quella zampetta davanti è troppo in alto. Quindi cambiamo subito. Abbassiamola. La mettiamo qui. Quindi muoviamolo così. Dovrebbe andare avanti. Teoricamente dovrebbe andare avanti. Magari potrei provare a piegarlo un pochino. Ma... Boh. Proviamoci dai. Una roba del genere. Forse... No. Così. Così secondo me ce la facciamo. Questo lo metto poco poco più piccolo. Ehm... Così. Ok. Evolve. Si piega in avanti? Si piega troppo in avanti? No. Uno sta andando... Uno sta andando... Guardatelo sulla destra? Eccoci qua. Era proprio lui. Era proprio lui. Guardatelo. Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Sta imparando subito. Velocissimo. C'era un altro... Un altro animale già pronto. Che vorrei provare. Il ragno. Con questo avete già capito che ce l'abbiamo fatta. Voglio provare a fare una cosa. Anzi lancio una sfida anche a voi. Visto che questo gioco è free to play. Potete scaricarlo. Ed è anche un browser game. Quindi potete giocare sia su internet. Che scaricarlo e giocare sui pc. Tranquillamente anche senza internet. Guardate intanto quanto stanno in avanti. Quanto stanno in veloce. E tutti stanno imparando anche da lui. Guardate una marea di cagnolini che saltellano in avanti. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Con questo esperimento ce l'abbiamo fatta. Ora vi lancio una sfida. Vi scaricate il gioco. O comunque ci giocate dal browser. E formate voi un animale. Una forma. Un qualcosa che secondo voi può camminare o saltare. Però iniziamo solo con camminare. Perché è abbastanza complicato. Non è così semplice come sembra. Quindi su Instagram mandatemi un mini video. Tramite direct o comunque una foto. Dove fate vedere la vostra forma. La migliore. Quella che mi intriga di più. La userò nel video. Benissimo ragazzi. Per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like. Commentate e condividete. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Iscrivetevi ai social che ci sono in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video. Grazie. Arrivederci. Alla prossima.